elettrostatica. Immaginiamo di avere due cariche Q grande e Q piccolo poste a distanza R0 e di voler avvicinare Q piccolo a Q grande, cioè portarla da una distanza R0 a una distanza R1. Se avvicino le cariche mi aumenta l'energia potenziale elettrostatica. La formula è U uguale K grande e Q piccolo su R, per cui U ed R sono inversamente proporzionali. Al diminuire della distanza aumenta l'energia potenziale elettrostatica. Ora, di quanto cambia l'energia per portare la carica da distanza R0 a R1? Beh, il valore finale di energia meno il valore iniziale di energia. Il lavoro delle forze esterne dovrà essere uguale alla variazione di energia potenziale, cioè per poter avvicinare queste due cariche positive io devo dare energia al sistema e questo lo faccio tramite il lavoro di forze esterne. Se le cariche sono inizialmente a distanza infinita, la variazione di energia del sistema, pari al lavoro che devo fare per portare la carica Q piccolo da distanza infinita a distanza R dalla Q grande, sarà KQ grande Q piccolo su R. Questo perché se R0 tende a infinito, questo termine tende a 0, rimanendo quello. Questo avviene perché abbiamo definito l'energia potenziale elettrostatica in modo tale che l'energia potenziale a distanza infinita è 0. Ora, come faccio a calcolarmi l'energia potenziale elettrostatica di un sistema di più cariche? Cominciamo dalla carica Q1. Immaginiamo di avvicinare la carica Q1 a una carica Q2. L'energia del sistema di due cariche abbiamo visto essere U12 KQ1 Q2 fratto R12. Immaginiamo adesso di avvicinare la carica Q3 alle due cariche precedenti. L'energia totale del sistema sarà l'energia precedente più l'energia necessaria per avvicinare la carica Q3 alla carica 2 più l'energia necessaria per avvicinare la carica 3 alla carica 1. Per cui l'energia totale del sistema sarà KQ1 Q2 fratto R12 più KQ2 Q3 fratto R23 più KQ1 Q3 fratto R13, che in modo compatto può essere scritto. L'energia totale del sistema è uguale alla sommatoria su tutte le coppie KQ2 Q3 fratto R24 più KQI Q3 fratto R24 più KQi Q3 fratto R24 più KQi Q1 Q3 fratto R��릴mosi